L'andata era una delle prime partite della nostra stagione, quindi dal lato tecnico avremmo potuto far meglio. Sicuramente non era un campo semplice dove giocare, ma non cerchiamo scuse. Avremmo voluto passare meglio di come abbiamo fatto, ma è stata una partita dura. L'atmosfera ad Istanbul era pesante, il Besiktas è una squadra molto solida, con parecchia qualità nella rosa. Certo che abbiamo molti aspetti sui quali migliorare rispetto all'andata, ma ci hanno reso la vita difficile. Un pareggio è stato comunque un buon risultato. Sanogo è un ottimo giocatore, un giovane come me, che ha anche lui molto su cui lavorare per crescere. Al momento ci ha fatto vedere il suo gran talento all'Emirates Cup, segnando quattro gran gol. Già l'anno scorso come attaccante si era mosso bene, si era trovato spesso in posizione buona per segnare, senza però riuscirci spesso. All'Emirates Cup ha mostrato di essere un grandissimo attaccante, poi è un bravissimo ragazzo che si allena duramente ed entra fuori dal campo. Poi in fondo non sarebbe qui all'Arsenal se non fosse un campione vero, come vi potrà confermare sicuramente il mister. And I'm sure the boss would say the same thing.